Il 10 novembre del 2007, a soli 22 anni, è sceso in campo per la prima volta con la fascia di Capitano. È bresciano di nascita, ma soprattutto è bresciano nel cuore. Oggi è leader in discusso della squadra Bianco Blu. Un Capitano, c'è solo un Capitano! 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 Allora Marco, raccontaci di quando eri piccolo, che cosa sognavi, in cosa credevi, se andavi bene a scuola. Bella domanda quella della scuola. Certe volte ti trovi a avere a che fare con i ragazzi e giustamente di dire che è importante la scuola. E magari quando sei giovane dai più importanza al calcio che altro. Non ero un grandissimo studente, però sapevo che il calcio non era l'unica cosa di quella mia vita, a quelle età lì. Quindi ho finito la scuola giustamente. Quando mi chiedono adesso di parlare quando ero giovane, ci metto un po' più di tempo perché mi soffermo e dico cavolo, sono passati davvero tanti anni, anche se non solo 27. Proprio il calcio di oggi sei quasi vecchio. Quando ero bambino avevo il sogno, penso che hanno tutti, quello di giocare a calcio, però lo affronti nella realtà dell'oratorio, lo affronti nella realtà dei doposcuola, lo affronti nella realtà del calcio a livello dilettantistico e ci credi fino a un certo punto. Però è una cosa che penso che accomuna molti ragazzi che cominciano a giocare a calcio, quello del fatto di voler sognare di giocare in certi stadi, del fatto di voler sognare, come nel mio caso, di indossare la maglia della mia città. Quindi penso sia un po' insieme alla passione il motore trainante che ha avuto e che ho ancora adesso verso il calcio. Poi crescendo che cosa è successo? Chi e che cosa ti ha portato ad essere Marco Zambelli, capitano del Brescia? Crescendo metto dentro anche una componente, tanto quello che sono stato io, tanto quello che ci ho messo io per cercare di raggiungere quelli che erano i miei sogni, tanto anche la fortuna. Se ripenso adesso all'età di 15 anni, è stato il mio prodo a Brescia e dopo 12 anni mi ritrovo capitano di questa squadra, mi sembra ancora strano. Per chi conosce la mia storia, è più facile pensare che sia stato ostacolato da quelli che sono stati i miei infortuni, da quella che è stata la mia vita fuori dal campo, che è stata fatta, come ripeto, da mille incidenti. Col senno di poi, sai, ho sempre pensato che tutto alla fine sia servito per diventare quello che sono, per diventare capitano, per diventare giocatore in prima squadra della mia città. Quindi ho imparato col tempo non più a vederle come sconfitte o come momenti bui, ma come momenti che mi hanno fatto diventare quello che sono. Ti riconosci nel Bresciano Doc, quello di poche parole, con un carattere un po' schivo, grande lavoratore, che tiene molto alla sua terra, alle sue tradizioni? Mi riconosco, siamo timidi, a volte noi bresciani siamo anche impulsivi, viviamo molto di istinto, però se decidiamo di dare il cuore per una cosa e di buttarci per una cosa, certe volte magari anche con troppa testardaggine, però in un modo o nell'altro riusciamo a arrivare. Una volta Carlo Mazzone ha detto che i bresciani sono duri come i sassi, che cosa ne pensi? E tu ti ritieni più un duro o un tenerone? Diciamo che ci sono i momenti, se devo pensare a quello che mi dice la mia fidanzata, mi dice che a volte sono troppo duro. Siamo un po' e un po', a volte, sai, certe volte la vita ti porta ad essere duro per sopravvivere, per sopravvivere alle difficoltà, per sopravvivere ai momenti difficili, e poi è un po' una maschera, una barriera che usi verso la vita di tutti i giorni. Giustamente la tenerezza penso poi faccia venire fuori quello che davvero sei, fa venire fuori il cuore delle persone, quindi mi ci ritrovo un po' in tutti e due questi aggettivi. Quali sono per te in assoluto i valori più importanti? Più cresci e più dai giustamente importanza alle cose che pensi e vorresti, ti restassero tutta la vita, parlo della famiglia, parlo dell'amicizia, parlo di una futura famiglia personale, parlo delle cose che poi, sai, magari all'inizio pensi più giustamente, per carità, perché la carriera è importante, il lavoro è importante, la vita professionale è importante, però poi dici, un giorno o l'altro queste cose finiranno e cosa mi resterà? Ti resteranno queste famiglie, questi amici, questo bagaglio di valori che poi ti costruisce e formi durante tutta la vita, però che giustamente speri e vuoi che restino eterno. Dopo Maurizio Neri sei il primo a cui i tifosi dedicano un coro, c'è solo un capitano. A parte quello che dimostri sul campo, che cosa pensi e arrivi di te alla gente? Quando cantano quel coro sono emozionato, emozionato perché ho sempre paura di non meritarlo, ho sempre paura magari di fare qualcosa per cui si ribalti questa immagine che arrivi di me, che per carità quando la gente ti vuole bene è innegabile, che fa piacere, quindi quel coro lì mi lascia sempre, è una cosa che mi accompagna anche nel dopo partita quando vado a casa. Non so cosa arrivi alla gente, nel senso che magari a qualcuno puoi piacere, qualcuno pensa che puoi essere falso, qualcuno pensa che magari puoi fare le cose semplicemente per apparire. Ho sempre cercato di portare quello che ero, senza secondi fini, senza seconde motivazioni, il Marco di tutti i giorni, il Marco, come mi chiamo qualcuno, Agnaro de Paes, il Marco semplice che ha intrapreso la strada del calcio, che per molti è una strada che per forza ti deve portare a cambiare, ma invece non in tutti i calciatori succede questo. Se dovessimo fare un'intervista del tipo, nome Marco, cognome Zambelli, luogo di nascita Gavardo, segni particolari? Segni particolari? Questa è una bella domanda, non lo so, direi magari generoso, mi piace generoso perché forse anche quello che mi attribuiscono quando sono in campo è una cosa che mi porto dentro, una cosa che coltivo, è un valore che mi piace di me, quindi mi piacerebbe riuscire a portarlo avanti sempre. Se tu potessi, che cosa cambieresti del calcio di oggi? Su tante cose non è, sai quando dici c'hai sogni, su tante cose non è il calcio che sogni da bambino perché tante cose a volte dà fastidio anche noi protagonisti vederle. Probabilmente cambiare non lo so, sicuramente chiederei a tutti i calciatori di avere più consapevolezza del ruolo che abbiamo. Come ruolo intendo responsabilità verso l'esterno, responsabilità verso i più giovani, il fatto di dire che certe volte non ci rendiamo conto quanto davvero possiamo essere d'aiuto per le nuove generazioni perché magari è brutto dirlo, però certe volte se tu porti un messaggio a un giovane a volte ascolta più te che sei un personaggio pubblico, magari dell'insegnante o del genitore. Quindi se dovessi più che cambiare qualcosa cercare di caricare più consapevolezza in tutti gli atleti professionistici di questo, che secondo me abbiamo anche un grosso dovere e un obbligo verso i più giovani. Se non avessi fatto il calciatore, cos'altro avresti fatto? Ho detto stampa, penso. Meglio di Rovi l'avrei fatto, sicuramente. Non lo so, non lo so. Ripeto, ho finito la scuola perché giustamente prima o poi la carriera calcistica finirà. Non so se resterò nel calcio, comunque qualcosa dovrò fare. Da piccolino ho fatto la pastore, quindi il fatto di fare l'agricoltore o stare in mezzo alla natura non mi dispiacerebbe. Senti, io ho portato questa lampada magica, frendila senza paura. Puoi strofinarla ed esprimere tre desideri, ad alta voce naturalmente. Da che parte? Dove vuoi. Quali sono i tre desideri? Personale o di squadra? Eh, vedi tu. Allora, uno personale spero di non avere infortuni durante quest'anno. Mi spreco e mi tocco anche uno di squadra che resti sempre intatto quello che è questo gruppo di ragazzi perché per chi lavora da fuori magari non lo vedo, ma quello che stanno facendo tanti per riuscire a raggiungere traguardi importanti è davvero bello. Da vecchio vedere quanto valore e quanto impegno ci stanno mettendo i ragazzi, penso che se continuiamo su questa strada possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. E l'ultimo, continuo a dire che spero che tutti i tifosi del Brescia si innamorino anche di quello che c'è sotto la maglia, cioè dell'uomo e non solo del calciatore. così magari oltre ai soldi irriducibili che vengono sempre, che ci mettono in costanza e che ringrazieremo sempre magari riusciremo a portare anche altri tifosi allo staglio. Caramilva, dal San Filippo è tutto, ti restituisco la lista. Sì, nero, bye! Sì, nero, bye!